Anche dalla casa nuova Fedez continua a fare le dirette con i suoi fan. Come sempre sono molte le domande che riguardano la sua vita, la sua famiglia, ma inevitabilmente la curiosità è tanta sulla nuova abitazione dei Ferragnes. Da poco meno di una settimana Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e Paloma, la Golden Retriever che è entrata nella loro vita da qualche mese, si sono trasferiti nell'appartamento extra lusso, con cinema privato e piscina condominiale, NDR, nel quartiere City Life di Milano. Ancora non è stato pubblicato l'home tour, ovvero il video in cui i jelly influencer mostrano le loro abitazioni nel dettaglio, ma attraverso le foto pubblicate in questi mesi e qualche storia di Fedez, già molto è stato svelato, top secret, al momento la cabina armadio di Chiara, di cui si conoscono solo pochissimi particolari. I colori sono sulle tonalità del beige, i figli hanno la propria cameretta con bagno privato, ogni dettaglio è stato studiato con cura, ma Fedez sembrerebbe non essere totalmente soddisfatto. In una delle dirette Instagram gli è stato chiesto di parlare dei difetti della casa, ma il rapper, forse per non voler poi discutere con la moglie o semplicemente perché non voleva lamentarsi visto il lusso in cui vive, ha evitato di rispondere lasciando però intendere che qualcosa non lo convince. No, niente, non voglio dire i problemi della casa nuova perché diciamo che è molto grande e se ti dimentichi qualcosa devi tipo correre... vabbè, niente di che. La risposta estratta dalla diretta pubblicata su TikTok ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto!